Un'altra giornata ricca di medaglie per gli azzurri del nuoto, brilla l'oro di Thomas Ceccon, ma sono davvero tanti i successi dei nostri atleti. Vediamoli insieme andando in diretta al Foro Italico di Roma con Giuseppe Rizzo e con il protagonista della giornata è quell'oro che brilla attaccato al collo. A te Giuseppe. Siamo proprio in compagnia di Thomas Ceccon che è il protagonista di questa giornata, l'artefice dei due ori di oggi, cioè il cento d'orso e poi proprio poco fa insieme ai tuoi compagni di squadra la 4% mista. E l'Europeo delle meraviglie per gli azzurri e l'Europeo delle meraviglie per te, non vuoi scendere più da quel podio? Sì, diciamo che partendo dal presupposto che mancano comunque molti atleti, mancano un paio di nazioni, quindi sicuramente quello è aiutato col medagliere. Però siamo una nazionale di 58 atleti, tantissimi, tanti giovani, stiamo crescendo, come si è visto anche al mondiale, quindi una nazionale che sarà destinata a crescere di sicuro. Quindi poi la stafetta che abbiamo fatto adesso, c'è stato l'inserimento di Matteo Rivolta che è al posto di Federico Burdisso che comunque ha fatto vedere che può valere anche lui un posto nella stafetta. Quindi i due ori di oggi molto molto belli, soprattutto quello del cento d'orso perché il greco era molto in forma, stava bene. Nel 50 mi ha battuto di 4 centesimi, oggi ve l'ho portato a casa io di 3 centesimi, quindi ci siamo un attimo scambiati il favore. Si dice che sia la squadra azzurra più forte di sempre, forse anche la più coesa, c'è un clima goliardico che abbiamo raccontato anche in questi giorni, anche questo aiuta, giusto? Sicuramente, poi adesso siamo magari un po' di più, ci si conosce un po' meno perché molti sono giovani ancora, quindi ci sarà tempo per conoscerci. Ovviamente al Mondiale eravamo circa 30 atleti, ci conoscevamo tutti quanti, c'era qualche giovane però anche loro si sono ben inseriti in questa nazionale fantastica. Una squadra che oggi ha collezionato tante altre medaglie, tanti argenti, quello di Pilato, quella di Quadarella, insomma è una valanga di medaglie che sembra non finire mai. Noi continueremo a raccontarvela nei prossimi giorni. Grazie a Thomas per essere stato con noi.